Partita anche la finale allievi, 105.000 metri, sempre a punti, sempre e subito campana e poi punti. Allievi al termine all'appello per le semifinali del Giro Sprint, allievi all'appello. E' già suonata la campana? Per chi è suonata questa campana? Per gli allievi che sono partiti spavati e al passaggio già i primi pulsi in palio. Gaglia! 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 Quattordici, cento e dici! Si riescono a mettersi da qua? Gaglia! Vediamo, ci siamo guardati un attimo, ho detto proviamo o non proviamo, forse è un po' presto per provare ad andare in fuga. Comunque, primi due punti per Gioleciterio, uno per Gabriere e Zanaglia. Il gruppo non sembra convintissimo. Contorniti tutto, 11. Si mette, viene in cascina. E' davanti Fabio Monchiero, ma non sembra convintissimo. Perchè devo correre? Lui davanti sembra... Super convinti. C'è un incanto in gruppo, nel caso che ho preso visuale, si è lanciato. Numero sette, numero centoquattro. Sette, uno da quattro. Andiamo a vedere poi! E' partito Nicola Morelli, quando ha il passaggio precedente per i punti per Monchiero e per Leonardo Bossi. Questi gol che si è, si guarda, guarda! Da Mario a prendi, io sono sopporti di Gioleciterio. Ce ne sono quelli che si sono? 34, 107. Perchè dopo? Tanto mi sono posizionata. Tre, quattro, fessi. Dopodiché? Continuo, comunque specchi in peragia. Potrebbe essere la fuga buona, il goal post non sembra non reagire mentre il 3 è davanti, martella non dica male. E Nicola Morelli ha un'azione in posa. Comienza a 4, 107. Ci sono molto più spettacolari le gare a punti e a questo punto si arriva anche Fichera, sono in 3. E Giole Ciperio davanti al gruppo, poi ora passa Bossi, ma sono altri punti in palio per il terzetto dei fuggitivi. Questi sono i punti di meno. 107. Dai, 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 dai. E' stata una riuscita, proprio questa è una feline finale. Dai, non ci sei fatto niente. Tu ieri hai fatto una tragedia. E' un'altra tragedia. No, non ci sono. E' un'altra tragedia. Suona qua. Morelli. Quelli della moglie si mettono là già. 9-8, 34 i punti, 9-8, 34 e due punti per Ticchera non è riuscito Fabrizio Mera mentre vanno via sono ancora loro davanti con Ticchera e Morandi, Morelli Morandi si è ha profuso un impegno incredibile, uno sforzo 34-98 i punti, 3-4, 1-8 sono 8 i punti di Nicola Morelli una grande azione quando al passaggio non sono i punti di meno 3 siamo agli ultimi 3 giri e un po' come era caduta anche Damiano Cagliaccio che è fatto in tutti i modi di occupare la festa del Bellusco che va a lanciare lo sprint 104-182, 1-0-4, 1-8-2 e Leonardo Bossi quando c'è lui secondo me a tre punti Leonardo Bossi ma sembra ancora in spinta e a questo punto sono a tutta sono a tutta 104-182 i punti 104-182 numero 39 fermarsi e a questo punto vanno in fuga altri due ma Nicola Morelli potrebbe aver compiuto l'azione decisiva di Paola in giro di Sano 81-8 Bobato e Paola Paola no ma non la nostra 5 minuti è suonata la cappana quindi traguardo da 3-2-1 per Bobato e Di Paola 81-14-184 aspettiamo il fotofilico